C'è nessuno che vuole cantare tra di voi, ha un maledì stesso, l'importante è farlo perché poi ci si sente meglio, ma non c'è nessuno che vuole cantare, prima fila detta, sì, oh, pronto? Buonasera, buonasera, eh, come diciamoci? Jonathan. Ah, bravo, e a te sapere cantare? Sì. Che è tu? L'utilizzo della comanda. Sì, bene. Allora, io possiamo cantare? Sì? Bene. Ma se mi vergogno, cosa succede? Niente, se mi vergogno divento rosso io, sì? E tu mi spegni se io mi accendo. Vai! L'utilizzo dell'accomare si è sposato sulla testa, l'utilizzo faceva testa e un po' più giù. L'utilizzo dell'accomare si è sposato sulla testa, l'utilizzo faceva testa, l'utilizzo faceva testa, l'utilizzo faceva testa e un po' più giù. L'utilizzo della testa, l'utilizzo faceva 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 testa, l' Grazie. 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 Jonathan, com'era? Tanto saguette e poco... e poco doanon. Jonathan, tanto saguette e poco doanon. Lo si rige nel tuo mare.